Nasce la rete dei itinerari ai gadini, un percorso tra natura e storia, la scoperta di Favignana, Levance e Marettimo. I visitatori potranno così usufruire di un prezioso strumento per esplorare le meraviglie delle tre isole. Nel territorio di Favignana, Levance e Marettimo sono stati posizionati oltre 100 cartelli informativi e frecce di indicazione. La nuova cartellonistica redatta in lingua italiana e inglese fornisce dettagliata informazione sui luoghi di interesse, la storia, la fauna e la flora che caratterizzano l'arcipelago delle Egadi. Questo sistema informativo permetterà ai visitatori di immergersi nella storia e nella natura delle tre isole, fornendo un contesto approfondito e stimolante per ogni tappa del percorso. Il progetto ha una duplice finalità, spiega Salvatore Livreri Console, direttore dell'area marina protetta. Da un lato mira a guidare i visitatori attraverso gli scenari più suggestivi di Favignana, Levance e Marettimo. Dall'altro intende sensibilizzare sul tema della conservazione ambientale e della tutela della biodiversità sia marina che terrestre. Questo è un ulteriore passo per aumentare la consapevolezza su questi importanti temi. La rete dei itinerari ai gadini rappresenta un'importante iniziativa per valorizzare il territorio, rendendolo più accessibile e fruibile per i turisti, afferma il sindaco Francesco Forgione. Allo stesso tempo sottolineiamo l'importanza della sostenibilità e della salvaguardia del nostro prezioso patrimonio naturale. Siamo orgogliosi di poter offrire ai visitatori un'esperienza che coniuga bellezza e consapevolezza ecologica.